Dopo il caso positivo di un cittadino di Trentinara, comunicato dal sindaco Rosario Carione, si continuano a registrare contagi nel territorio del Cilento, altri due tamponi positivi nella giornata di ieri per il comune di Ceraso. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL mi ha appena comunicato che tra 12 i tamponi esaminati, due purtroppo risultano positivi. Le persone interessate sono già in quarantena, stiamo ricostruendo la catena dei contatti. Vi chiedo di continuare a rispettare le regole, questo l'annuncio del sindaco Gennaro Maione alla cittadinanza. Altri due casi positivi accertati si registrano anche nel comune di Capaccio Pestum. Nel pomeriggio di ieri sale dunque a 7 il numero di persone infette da Covid-19. Un altro contagio è stato registrato nel comune di Albanella e uno nel comune di Monteforte Cilento. Ad Agropoli invece dopo la notizia del sindaco Damocopola relativa ad un caso positivo che nei giorni scorsi era stato in vacanza nella cittadina agropolese e poi ha fatto ritorno nel suo luogo di residenza, 23 sono i tamponi prelevati ai cittadini del posto che hanno avuto contatti stritti con il cittadino positivo.